Nenema Giacavallo, forte di questo risultato onorevole, cosa ha in mente rispetto a questa riconferma di Carmelo Pace? Una delle cose è importante fare gli auguri a Carmelo Pace che ha vinto sia pure di misura questo confronto. Bisogna riconoscere che il 50%, poco più del 50% ha votato per lui. Ma bisogna anche riconoscere che quasi il 50% ha votato non tanto per me ma per una squadra, per un gruppo che ha proposto con la forza delle idee e solo delle idee un progetto di cambiamento per questa città che per una piccolissima parte dei nostri elettori non ha avuto la meglio. Io faccio gli auguri a Carmelo Pace perché ritengo che ne abbia bisogno e tanti dal momento che ha assunto particolari impegni che gli auguro possa mantenere. Il nostro risultato che ci lusinga, che ci stimola, che ci sostiene per andare avanti, noi lo consideriamo non un punto di arrivo ma solo ed esclusivamente un punto di partenza. Perché è un obbligo che io ho assunto non solo con i candidati ma con la moltitudine di amici che ci ha sostenuto e in maniera particolare, lo devo dire con orgoglio e soddisfazione, con il gruppo particolarmente nutrito e qualificato di giovani, tantissimi, che mi hanno indotto a lottare con maggiore determinazione, con maggiore forza, con maggiore convincimento per cui considero un dovere morale, prima che politico, ricambiare con il mio impegno, ricambiare con il nostro impegno la loro dedizione e la fiducia che hanno riposto in noi. L'impegno che noi abbiamo portato avanti non era tanto finalizzato ad avere noi un buon risultato, ma era ed è finalizzato ad assicurare un futuro più trasparente, più legalitario, ripeto, più legalitario, più corretto, fatto di valori, fatto di ideali, lontano dalla attrazione del denaro, a questi giovani desiderosi di un futuro migliore e non altrove, ma a Ribera. Noi ci crediamo che questi giovani possano e debbano rimanere a Ribera, così come speriamo che il Sindaco Pace possa dare risposte a questi giovani che sicuramente non gli chiedono né di andare a bere, come lui ha sostenuto, né tantomeno facili promesse. Chiedono soltanto un impegno onesto, trasparente, corretto, all'insegna della legalità e lontano da ogni forma di condizionamento. Ripeto, lontano da ogni forma di condizionamento. Noi continueremo ad essere particolarmente attenti, vigili se vogliamo, dentro e fuori il Consiglio Comunale. Il nostro impegno politico e sociale continuerà perché, lo ripeto, è inaccettabile che Ribera possa avere il primato quasi in Sicilia, sicuramente in provincia di Agrigento, per numero di indagati per tossicodipendenza o per un livello particolarmente elevato di alcolismo. Noi avevamo detto quello che avremmo fatto e cercheremo di farlo comunque, anche fuori dai confini dell'amministrazione comunale. Non sappiamo che cosa abbia intenzione di fare la Giunta Pace. Se ci sarà bisogno del nostro aiuto in termini di idee, in termini di sostegno per iniziative serene, per iniziative valide, noi ci saremo. Per azioni che non meritano considerazione né politica né sociale, sicuramente faremo una forte opposizione. Finalmente un'opposizione con la O maiuscola, un'opposizione seria, che darà un notevole impulso all'attività amministrativa. Io devo dire che anche in passato in Consiglio Comunale c'è stata un'opposizione seria. Quantitativamente è rilevante perché erano tre consiglieri comunali, per cui io devo rendere giustizia per questi tre consiglieri comunali che si sono sobbarcati l'onere pesante, imponente, di fare opposizione alla Giunta precedente. L'opposizione che sarà in Consiglio Comunale, che sarà fatta dai consiglieri comunali del nostro gruppo, non sarà un'opposizione finalizzata a se stessa. Sarà un'opposizione intelligente, razionale e rispettosa dei bisogni della gente, che sarà particolarmente severa quando saranno proposte delle cose inaccettabili, come è successo fra l'altro in passato, ma che darà la propria disponibilità se la futura Giunta Pace proporrà delle soluzioni ai tanti problemi che ci sono nella nostra città. Grazie, è un grande in bocca al lupo per il lavoro che continuerà, penso, imperterrito contro ogni stortura, ogni cosa che non funziona. Sì, diciamo che sarà una battaglia principalmente per la legalità. Il fatto che noi abbiamo attorno a noi delle persone perbene, delle persone oneste, ci rafforza ancora di più nell'idea che bisogna andare in questa direzione.